La maggioranza e la maggioranza è anche un po' di buona attenzione per l'ossio comunale in quanto ritiene il nostro grado di tutto il successo, è una discussione proprio per sentire in vista degli altri faccini aiutati, ma anche la relazione che per questo trasporre è un po' di buona attenzione per essere per capire se la maggioranza è un po' di buona attenzione e spiego di cosa stiamo parlando, dicevo prima che con la battuta questa maggioranza è stata con la modifica, in effetti una delle primissime pratiche che è stata approvata è proprio una modifica di una delle primissime, dichiaratamente mirando a sostituire il tra l'unico e il paesaggio, a cacciare il di Capagli, il 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 Capagli, non è stato detto altro, ma si è diciamocato a teggiare il paesaggio, e quindi bisogna in questo momento, in questo momento, quella che è la modifica per la luce, sostanzialmente, alla scavenza del mandato del Sino, che è una buonissima domanda, perché secondo Poi con questa modifica, quella che mi si produce, è un'unicamera che si riferisce di vostra fiducia, perché tra l'altro in Italia avevano una discrezione, ma parliamo di descrizioni, ma ad esempio con i parametri di lice, chi vostro per esempio era fatto presente, non era così, in quelle più modificate le città, ma in ogni caso aveva avuto effetto la prossima modificazione, ma c'era gente che aveva una nuova missione di carica, poi ho detto di no, se non avete avanti, avete avanti, avete avanti avanti, avete avanti avanti avanti, come al solito, quando stanno andando a me, ok? Ad esempio, è ancora lì, fino a 30 giugno era poi, dove non star via se ha cacciato a malumore, perché era abbastanza avanti, insomma, o per lo meno la visione di una 30 giugno, non so se non muore, sì sì, se non mi sono, perché a me in questi giorni siamo ripresi altre cose, non si è costruendo, ma che mi interessa, non mi interessa. Quello del coraggio di cui si demossi, nel frattempo, a maggio di quest'anno, a catto di maggio la visione, una nuova legge regionale, il test unico, allora inizia Saddi proprio le politiche, poi a me, 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 che tra l'altro introduce un parlegge con due euro, con un disegnere mandamento, cioè dicendo sostanzialmente, e cominciano a stare a fare tassi e a fare tassi e a fare tassi o a misa se andiamo a scaldere dalla misa si prende i canti e quindi quello che è che siamo contenti la ragione ha fatto la legge come voi quindi come dici se la legge ci sono disconi che prima non ha ma quello non ha quindi io lo so la legge quindi è una legge che di me piace la vostra maggioranza è un urlato ma stavola limitata ma no questa legge non si dice questa legge in fra esempio la giunta va ma deve far perdere solo tra virgolette questa legge perché questa legge cosa dice oltre a dire questa cosa che a me piace come voi ma che si è ripetuta qui c'è un altro speciale di esperti che è un paese non sostanzialmente bisogna scegliere se gli sti o che ha ovviamente scritti come l'altro la legge precedente già per vedere un altro ma ha uno spazio per poter cedere anche i professionisti comunque esperti anche se non si è scritto su quell'altro però non si è trovato queste clienti eccetera le forme che sono tutte le nostre leggi nazionali e anche le nostre caratteristiche nazionali quindi diceva un altro speciale che il negozio si è pubblica per i miei scrittivi e bisogna che la commissione sia composta per essere principi da non più i due a parte della stessa categoria quindi partite i due geometrisi sono scritti generati geologi eccetera questa legge però mi piace una discussione per sentire cosa avete esatto perché la legge è stata promulgata dal presidente deputato in sei di sappiamo tutti che c'è il riservo pubblicato promulgato è il presidente della promulgata le leggi il presidente del di pubblicato di pubblicato pubblicato e poi per valutare i 15 giornali pubblicato pretato marco la godda ha limitato così la giornata il presidente di prodotto il 6 di giugno a promulgata il indice giugno in freddo e fuori alla giugna di per si portano con il gen aggiorn se è poco bene il nome della professione del presagio è 10 giugno. E cosa fa? Il nome del cipadino. Quindi in palese è la relazione della legge, in palese è il provato della legge, in palese è il contrasto della legge. C'è tutta parte la visione di questa cosa, non è vero, 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 non è vero. Sono meglio gli abitanti. Prendiamo altri, si è messa così, ma la legge dice una cosa diversa. E gli abitanti sono diversi. Cosa succede poi tra l'altro? Andate a gravare, mi avviso, non so avviso, che questa, della fine dichiarata, immediatamente eseguibile. Guardate un po' strano. Perché immediatamente eseguibile, con decorenza, con decorenza, con decorenza, con decorenza, con decorenza primo luglio, e di dieci decorenza, si nomina la commissione dell'articolo prefetto del primo luglio, con dei libri evidentemente eseguibili. E perché? Ma è abbastanza evidente. Perché si sapeva, si sapeva che il capo di decorenza, e quindi, con la mossa, o qualità di Anna, ma sul mio avviso, in modo particiata, si è pensato sull'articolo che era probabilmente eseguibile, ma acquista efficacia, prima che acquista efficacia con la legge di carri. A me è bisogno di così manutenza. Il punto è un punto politico. Cioè, se questo è un modo corretto di portarsi da parte di un'amministrazione comunale, da parte di un campo luogo di provincia, da parte di un'amministrazione che bisogna portare un'amministrazione in sé. Stato, di un'amministrazione, perché dei contatti molto stretti, quello che è il punto dell'amministrazione regionale, cioè che sostanzialmente ha più o meno lo stesso ruolo politico, ma questo non è. Il punto è, quale che sia l'ora della punta regionale, se c'è una legge regionale, che non sia già in piccola o che non sia in piccola, se è stata adottata, non è stata appogliata, il capoluogo di provincia, e il capoluogo di provincia come interi, si deve adeguare a quella legge. Non importa se è tra l'amministrazione comunale. Non importa se non mi piace. Anche perché, l'avete liberato detto, ha efficacia dal primo di luglio, quindi l'efficacia della legge, ampiamente dopo la legge. Quindi, se fa male, se fa male. l'efficacia della legge. Ma poi l'efficacia della legge. Ma poi l'efficacia della legge. E c'è di più. E c'è di più. E c'è di più. Come se lo bastasse. E io che sono un argomento, non mi scappa bene. Ho scritto al dirigente del settore localista. Io ho detto, caro, geniere, per cortesia, mi mandi tutte le domande di coloro che, per esempio, fa applicare la comune. Come spieghiamo le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le domande di coloro. No, perché qui si intaccare, le scelte giustamente, ma per capire quando sono state presentate, come il profilo, le professioni che hanno fatto domande, che hanno fatto, e lo scoperto, anche quello non è difficile perché si è intituto a fare in generale, che dei cibo che si est nominati. Qui ho il massimo stivo, il massimo rispetto, che non metto nel metodo delle persone, e non faccio nomi, e raccontreremo anche quello che è stato fatto l'altra volta. Faccio un discorso di piedi e di mento. Di queste cinque le scuole nominate, tre, non sono scritte nel metà. non in quel modo ma nemmeno lei e una delle persone ha avuto una domanda termine termine che il banco qualifica espressamente come preventorio il banco dice c'è la data domanda una domanda una domanda dopo non farò i nomi perché non c'è una persona con nessuno io non riconosco o mi dicono che sono persone assolutamente riscattate ma nel modo di muoversi nella distinzione che trovo ma veramente è una caduta di non dico di stile ma di correttezza esistituzionale che io credo di non aver mai visto in questo comune spero di non vedere mai quindi 5 persone nominate 5 architetti presso della legge 3 non avere riscattivi uno ha presentato domanda e quindi quella qualità che non ha la mia riscattiva tra l'altro ora io quando mi metto non ho rischiato come ho detto ho mandato nel mio discorso una mail certificata la segretaria rappresentata la segretaria dicendo sicuramente come è stato ho detto dicendo una segretaria ma il segretario c'è questa descrizione in riterra di confronto che è una presentata sicuramente non siete accorti sicuramente che è una fede ma più decente probabilmente non sono andate mandati durati non sono accorgi che vengono fuori interno non sono accorgi che vengono a fare una regista e quindi sarebbe forse il caso non so non so non tante voi se non è il segretario comunale indicare la giunta tra l'opera della storia non è di considerare quanto decida per quanto l'oppurezza posso dimostrare quanto dico che è una particolare determinare che non è un'ingaggio è stata un'ingraza che non è una vacanza che vengono assolutamente quindi è di più d'evidenza che qualora prendendo atto che c'è stata magari da sviluppo si tenesse di intervenire su questa situazione e quindi non necessariamente non è passato e non è ma che qui è un'ingraza che è un'ingraza perché questa commissione è delle varie obbligatorie non piccole e non obbligatorie quindi è un passaggio fondamentale delle tra inizioni piccole e se questa commissione è illegittima questa proposta legittimamente o la sua robina è un modo coerente con la tentativa e si viene pari di impatti e se i partiti sono i partiti sono i partiti delle pratiche e se le pratiche sono i partiti e ha un danno ecce da chi va per tutto quindi c'è un aspetto tecnico che va a considerare un aspetto politico e di corretta azione amministrativa che va a dare non si comporta così in un comune in sé non si comporta così dicono un comune in una provincia ma vale anche per l'ultimo comune per l'ultimo maesino dell'elettro tema non si comporta così tramite questo è il mio punto di vista io credo che sia assolutamente necessario porre rivedere questa situazione e invito veramente caldamente signora la giunta a rivedere le scelte a non dare chi vogliono non faccio questi nomi la scelta di strizionale se questa politica la legge se non si vogliono che sia un sogno di altro sì di la nomi a seconda di